Ritardi nelle liste di attesa negli ospedali dell'area parco. Arriva la denuncia di Codacons Cilento. I mass media denunciano oltre le carenze di personale negli ospedali di Agropoli, Polla, Vallo della Lucania, Sapri, anche le lunghe attese per ricevere prestazioni mediche spesso di vitale importanza per i cittadini. Una situazione divenuta nel tempo ormai insostenibile da parte dei cittadini, drammaticamente peggiorata dalla pandemia in atto, ha detto il presidente del Codacons. Riceviamo continue segnalazioni di ritardi nel recupero delle prestazioni sanitarie rinviate a causa del Covid, sottolinea Lanzara, nonostante i fondi destinati a tale scopo dal decreto legge 14 agosto 2020, nella quale sono previsti sostegni riguardanti le liste di attesa e le prestazioni specialistiche ambulatoriali per i pazienti ex Covid-19. Fondi ancora disponibili come previsto nel decreto sostegno bis. Per questo ho chiesto chiarimenti urgenti su cosa prevede il piano regionale per il recupero delle liste d'attesa e i fondi previsti per gli ospedali indicati.